libro 8 tramonto e aurora capitolo 72 l'impetuosa generosità di dorotea che si sarebbe subito precipitata a scaggiunare leadgate dal sospetto di aver accettato denaro per farsi corrompere ebbe una malinconica battuta d'arresto quando giunse a considerare tutte le circostanze del caso alla luce dell'esperienza di mister ferbrade è una faccenda delicata ad affrontare gli disse come possiamo cominciare ad indagare su di essa lo si deve fare pubblicamente mettendo all'opera il magistrato il medico legale o privatamente interrogando leadgate quanto al primo passo non esistono motivazioni solide su cui basarsi altrimenti o lì lo avrebbe compiuto e quanto ad affrontare l'argomento con leadgate confesso che sarei riluttante probabilmente lo prenderebbe come un insulto sanguinoso più di una volta incontrato delle difficoltà parlando di cose sue personali bisognerebbe conoscere in precedenza la verità sulla sua condotta per sentirsi fiduciosi di un buon risultato io mi sento convinta che la sua condotta sia senza macchia credo che le persone siano sempre migliori di quanto il loro prossimo pensa disse dorotea alcune delle esperienze più intense avute negli ultimi due anni l'avevano indotta in cuor suo ad avversare fortemente qualsiasi sfavorevole interpretazione degli altri e per la prima volta si sentì un po scontenta di mister ferbrade detestava quel cauto soppesare le conseguenze invece di un ardente fede negli sforzi della giustizia e della compassione che avrebbero vinto con la loro forza emotiva due giorni dopo e li sta vaccinando al palazzo con lo zio di lei e chettam e mentre il dessert era ancora intatto i servitori erano fuori della stanza e mister brook ci andolava appisolato e torna sull'argomento con rinnovata vivacità mister litgate capirebbe che se i suoi amici odono una calugna su di lui il loro primo desiderio sia quello di giustificarlo perché scopo viviamo se non per renderci reciprocamente la vita meno difficile io non posso assistere indifferente alle sofferenze di un uomo che mi ha consigliato quando io ero sofferente e mi ha assistito durante la mia malattia il tono e i modi di dorotea non erano più energici di quanto lo fossero stati quando quasi tre anni prima era capotavola a casa di suo zio ed allora la sua esperienza le aveva conferito un diritto maggiore di esprimere un'opinione decisa ma sir james non era più il corteggiatore timido e acquiescente era il cognato premuroso pieno di ammirazione devota per la sorella della moglie ma costantemente in guardia affinché questa non cadesse vittima di qualche nuova fantasia quasi altrettanto deleteria quanto il matrimonio con kesabo e gli sorrideva molto meno quando diceva esattamente era più spesso per introdurre un'opinione opposta al contrario di quella dei tempi da scapolo sottomenso e dorotea si rese conto con stupore di dover decidere a non dover aver paura di lui tanto più perché era il suo miglior amico ora di sentire da lei ma dorotea disse in tono di protesta non potete assumervi l'impegno di intromettervi nella vita di un uomo in questo modo litgate deve sapere per lo meno presto verrà a sapere qual è la sua posizione se in grado di discolparsi lo farà deve agire per conto proprio io penso che i suoi amici debbano attendere finché non si offra loro un'occasione favorevole aggiunse mister fair brother è possibile spesso ho provato tanta debolezza in me stesso che posso immaginare che persino una persona onorevole quale ho sempre considerato litgate possa soccombere alla tentazione di accettare del denaro che le sia stato offerto più o meno indifferentemente per corromperla per rassicurarsi il suo silenzio su fatti scandalosi da tempo trascorsi dico questo posso immaginarlo se fosse stato assillato da una situazione economica pesante se fosse stato vessato come sono certo che litgate lo è stato non sarei disposta a credere nulla di peggiore sul suo conto se non in base a prove schiaccianti ma certi errori sono seguiti dalla terribile nemesi ed è sempre possibile per coloro che lo vogliono interpretare questi errori come delitti in favore della persona in questione non c'è prova tranne la sua coscienza e la sua parola oh che crudeltà disse dorotea intracciando le mani e voi non vorreste essere l'unica persona che crede nell'innocenza di quell'uomo se il resto del mondo lo smentisse per di più c'è anzi tutto il carattere di un uomo a parlare per lui ma mia cara missis casebo disse mr fairbrother sorridendo gentilmente davanti all'ardore di lei il carattere non è inciso nel marmo non è qualcosa di solido inalterabile è qualcosa di vivo e di cangiante e si può ammalare come il nostro corpo allora può venire salvato risanato disse dorotea io non avrei timore di chiedere a mr litgate di dirmi la verità per poterlo aiutare perché dovrei aver paura ora che avrò il terreno james potrei fare come ha proposto bald straw e prendere il suo posto nell'occuparmi dell'ospedale e devo consultarmi con mr litgate per sapere in maniera completa quali siano le prospettive per agire per il meglio rispettando i progetti attuali ecco la migliore occasione del mondo che mi si possa presentare per chiedere di confidarsi con me e potrebbe dirmi cose che avrebbero la forza di chiarire tutte le circostanze allora tutti ci schiereremo al suo fianco e lo tireremo fuori dai guai la gente esalta ogni genere di coraggio tranne il coraggio che potrebbe mostrare in difesa di chi le sta più vicino negli occhi di dorotea c'era un'umida luminosità e il tono mutato della sua voce destò lo zio che presa ad ascoltare è vero che una donna può abbandonarsi ad alcuni sforzi di comprensione che ben difficilmente avrebbero successo se l'intraprendessimo noi uomini disse mister fairbrother quasi convertito dall'ardore di dorotea quel che certo è che una donna ha il dovere di essere cauta e dare ascolto a coloro che conoscono il mondo meglio di lei disse sir james col suo piccolo cipiglio qualunque cosa finirete per fare dorotea al momento dovreste proprio tirarvi indietro e non immischiarvi spontaneamente in questa faccenda di balstro ancora non sappiamo come si possa risolvere non siete d'accordo con me concluse guardando mister fairbrother penso proprio che sarebbe meglio aspettare disse quest'ultimo sì sì mia cara disse mister brooke non del tutto consapevole del punto a cui fosse giunta la discussione ma intervenendo con un contributo che nelle linee generali era appropriato è facile andare troppo in là lo sai non devi lasciarti trasportare dall'idea e quanto ad aver fretta di mettere dei soldi in progetti non va bene lo sai garth mi ha invischiato in misure esagerate a riparazioni bonifiche cose del genere fra una cosa e l'altra ci rimetto esageratamente devo tirare alle redini quanto a voi cetta state spendendo un patrimonio in quelle staccionate di quercia attorno alla vostra proprietà dorotea sottomessasi con imbarazzo alla discussione andò con celia in biblioteca che era il suo consueto salotto andiamo dodo ascolta quello che dice james sefe cicelia altrimenti ti metterai nei guai è sempre stato e sarà sempre così quando ti metti in testa di fare quello che pare a te e credo che sia una benedizione che dopo tutto ora ci sia james a pensare per te ti lascia realizzare i tuoi progetti solo ti impedisce di venire ingannata e questo è il bello di avere un fratello invece di un marito un marito non ti lascerebbe realizzare i tuoi progetti come se volessi un marito disse dorotea voglio solo che i miei sentimenti non vengano frenati a ogni peso spinto missis chesabu era ancora abbastanza ribelle da scoppiare lacrime di rabbia via davvero dodo disse celia con un tono gutturale alquanto più profondo del consueto sei proprio incoerente prima una cosa e poi un'altra a mister chesabu ti sottomettevi in modo del tutto vergognoso penso che avresti rinunciato per sempre a venirmi a trovare se tu l'avesse chiesto naturale che mi sottomettessi a lui era il mio dovere era il sentimento che provavo per lui disse dorotea guardando attraverso il prisma delle lacrime allora perché non puoi pensare che sia tuo dovere sottometterti un po i desideri di james disse celia con un senso di rigore nella propria argomentazione perché lui vuole soltanto ciò che è per il tuo bene e naturalmente gli uomini sono più esperti in tutto tranne in ciò su cui le donne la sanno più lunga dorotea rise e dimenticò le proprie lacrime beh voglio dire sui bambini cose del genere spiegò celia io non la darei vinta james se lo sapessi in torto come invece facevi tu con mister chesabu capitolo 73 dopo che litgate ebbe calmato l'ansiosa mrs balstro dicendole che il marito era stato colto da uno svenimento alla riunione ma che sperava di vederlo migliorare che sarebbe passato il giorno successivo a meno che lei non lo mandasse chiamare prima andò direttamente a casa montò sul suo cavallo e cavalcò fino a tre miglia fuori dalla città allo scopo di essere fuori dalla portata della gente si sentiva diventare violento e ragionevole come se infuriasse al dolore del tormento era pronto a maledire il giorno in cui era venuto a middlemarch tutto ciò che gli era accaduto gli sembrava una pure semplice incubazione di questa odiosa fatalità che aveva colpito la sua onerevole ambizione come una calamità e che doveva indurre persino coloro che avevano metri di giudizio volgari a considerare la sua reputazione irrimediabilmente macchiata in tali momenti è ben difficile che un uomo riesca a non odiare litgate considerava se stesso la vittima e gli altri colpevoli della sua mala sorte era stata sua intenzione che tutte le cose si risolvessero diversamente e altri si erano intrufolati nella sua vita avevano frustrato i suoi scopi il suo matrimonio gli sembrava una grandissima calamità e aveva paura di andare da rosamond prima di essersi sfogato in questo furore solitario perché la semplice vista di lei non lo esasperasse lo spingesse a comportarsi in modo inqualificabile ci sono episodi nella vita della maggior parte degli uomini in cui le loro migliori qualità possono solo proiettare un'ombra dissuasiva sugli oggetti della loro visione interiore la tenerezza di litgate in quel momento era presente solo sotto forma del timore di violarla non come un sentimento che le induceva l'affettuosità infatti si sentiva assai infelice solo coloro che conoscono il primato della vita intellettuale la vita che contiene un seme di pensieri di scopi inubilitanti possono comprendere il dolore di chi precipita da quella serena attività nel conflitto contro le beghe mondane che lo coinvolge tutto da un tormento dell'anima come poteva continuare a vivere senza scagionarsi fra persone che lo sospettavano di una bassa azione come poteva allontanarsi alla catichella da middlemarch quasi si ritirasse di fronte a una giusta condanna infatti quella scena alla riunione di cui era stato appena testimone sebbene non gli avesse rivelato alcun particolare era stata sufficiente a presentargli la propria situazione in modo del tutto chiaro balstro aveva temuto scandalose rivelazioni da parte di raffles ora lady gate poteva ricostruire tutte le probabilità di un tale caso aveva paura che mi giungesse all'orecchio qualche rivelazione tutto ciò che voleva era di vincolarmi a lui con un forte debito di riconoscenza ecco perché passato di punto in bianco dalla durezza alla generosità e può darsi che si sia indebitamente intromesso fra me il paziente può darsi che abbia disubbidito ai miei ordini temo che sia così ma che l'abbia fatto no la gente crede che in qualche modo egli abbia avvelenato l'uomo e che io abbia chiuso un occhio sul delitto anche se non sono stato suo complice eppure eppure può darsi che egli non si sia macchiato di quest'ultimo delitto e c'è un briciolo di possibilità che il mutato comportamento nei miei confronti possa essere stato un genuino atto di compassione l'effetto di ripensamento come egli ha asserito quello che chiamiamo una briciola di possibilità è talvolta vero e ciò che troviamo più facile da credere è grossolanamente falso può darsi che nelle ultime azioni verso quell'uomo un palstro abbia conservato pulite le proprie mani nonostante io sospetti il contrario la sua posizione era di una crudeltà paralizzante anche se avesse rinunciato a qualsiasi altra considerazione tranne quella di discolparsi se avesse interpretato le scrollate di spalle gli sguardi e l'isolamento come un'accusa e avesse reso noti in pubblico tutti i fatti come lui li conosceva chi ne sarebbe rimasto convinto avrebbe fatto la figura dello stupido offrire la propria testimonianza a favore di se stesso e dire io non ho preso il denaro per farmi corrompere le circostanze avrebbero sempre avuto un peso maggiore della sua asserzione e inoltre farsi avanti dire tutto su di sé doveva comportare delle dichiarazioni merito a balstro che avrebbero peggiorato i sospetti di altri contro di lui avrebbe dovuto dire che non era al corrente dell'esistenza di raffles quando per la prima volta aveva rivelato il proprio pressante bisogno di denaro a balstro e che aveva preso il denaro in tutta innocenza in seguito a quella comunicazione ignorando che chiamando da visitare quell'uomo potesse essere sopraggiunto un nuovo motivo per il prestito e dopo tutto il sospetto sulle motivazioni di balstro poteva essere infondato ma allora si presentava il problema se gli avrebbe agito esattamente nello stesso modo se non avesse preso il denaro certo se raffles avesse continuato a vivere al suo arrivo lo si fosse potuto sottoporre un ulteriore trattamento e in quel momento si fosse immaginato che balstro aveva disatteso i suoi ordini avrebbe condotto un'indagine severa e se la sua congettura avesse ricevuto una conferma si sarebbe lavato le mani del caso a dispetto del suo recente e grosso debito di riconoscenza ma se non avesse ricevuto il denaro se balstro non si fosse rimangiato il suo freddo consiglio di dichiarare bancarotta lui late gate sarebbe astenuto da ogni indagine anche dopo aver trovato l'uomo deceduto il rifugire da un insulto balstro l'incertezza di ogni trattamento medico l'argomentazione che il proprio trattamento sarebbe stato considerato sbagliato dalla maggior parte dei suoi colleghi avrebbero avuto lo stesso peso e lo stesso significato per lui questo era l'angolo scomodo in cui si trovava la coscienza di late gate mentre questi passava in rivista i fatti e resisteva ad ogni biasimo se fosse stato indipendente questa storia riguardante il trattamento di un paziente e la norma precisa che gli dovesse fare o far fare ciò che credeva meglio per la vita affidatagli sarebbero state il punto su cui si sarebbe dimostrato più intransigente allo stato dei fatti si era lasciato andare alla conclusione che l'aver disubbidito ai propri ordini quale che ne fosse stata la causa non poteva essere considerato un delitto che secondo l'opinione predominante l'obbedienza ai suoi ordini aveva altrettante probabilità di essere fatale e che la faccenda si riduceva a una semplice questione d'etichetta invece per più volte quando era stato libero aveva denunciato la perversione del dubbio scientifico in un dubbio morale e aveva affermato l'esperimento più puro nel trattamento può tuttavia essere coscienzioso il mio lavoro è di badare alla vita e di fare quanto mi è possibile per difenderla la scienza propriamente parlando è più scrupolosa del dogma il dogma concede la licenza di sbagliare ma l'alito stesso della scienza è una lotta contro l'errore deve conservare viva la coscienza ahimè la coscienza scientifica si era abbandonata la compagnia avvilente dell'obbligo finanziario e delle considerazioni egoistiche fra tutti i medici di middlemarch ce n'è uno solo che si interrogherebbe come faccio si chiese il povero lidgate con rinnovato empito di ribellione contro l'oppressione del proprio destino eppure tutti quanti si sentiranno giustificati a tenersi bene alla larga da me come se fosse un lebroso la mia professione e la mia reputazione sono completamente rovinate questo lo capisco anche se potessi venire discolpato con prove valide la cosa farebbe ben poca differenza per questo benedetto angolo di mondo sono stato definito corrotto e sarei ugualmente oggetto del loro disprezzo vi erano già stati numerosi segni che fino ad allora lo avevano stupito che proprio quando aveva regolato i propri debiti e si stava allegramente rimettendo in piedi i cittadini lo evitavano e lo guardavano con occhi strani e in due casi venne a sapere che dei suoi pazienti avevano chiamato un altro medico adesso i motivi erano anche troppo chiari era iniziato l'ostracismo generale nella meraviglia che nella natura energetica di lidgate il senso di un disperato equivo che si trasformasse facilmente in una resistenza ostinata il cipiglio che di quando in quanto appariva sulla sua fronte squadrata non era un incidente insignificante già quando stava rientrando in città dopo quella cavalcata fatta nelle prime ore di bruciante dolore decise di restare a middlemarch a dispetto del peggio che si potesse fare contro di lui non si sarebbe ritratto di fronte alla calunnia come se si sottomettesse ad essa avrebbe affrontata fino all'ultimo e nessun suo atto avrebbe dimostrato che gli aveva paura era tipico della generosità oltre che della forza provocatoria della sua natura il fatto che decidesse di non esimersi dal mostrare in pieno il senso del proprio obbligo verso Balstrow era vero che la collaborazione con costui gli era stata fatale vero che se avesse avuto ancora in mano le mille sterline pur con tutti i debiti da pagare avrebbe ridato il denaro a Balstrow e avrebbe preferito la miseria piuttosto che una salvezza macchiata dal sospetto di corruzione perché ricordate egli era uno dei più orgogliosi fra i figli degli uomini ciò non di meno non si sarebbe allontanato da questo suo simile calpestato del cui aiuto si era servito e non avrebbe compiuto il pietoso sforzo di scagionarsi lanciando accuse contro un altro farò quello che penso giusto e non darò spiegazioni a nessuno cercheranno di ridurmi alla fame ma stava proseguendo con decisione ostinata ma si stava approssimando a casa il pensiero di Rosamond si impose nuovamente in quella posizione di eminenza da cui era stato scacciato dalle lotti tormentose dell'onore e dell'orgoglio feriti tutto questo come l'avrebbe preso Rosamond ecco un'altra catena pesante da trascinare e il povero Lydgate non era nello stato d'animo adatto per sopportare la sommuta supremazia non provò alcun impulso di dirle i guai che ben presto avrebbero dovuto condividere preferì attendere la rivelazione casuale che gli avvenimenti ben presto dovevano portare capitolo 74 a middlemarch una moglie non poteva restare a lungo all'oscuro del fatto che la città intratteneva una cattiva opinione sul marito nessuna amica intima poteva far giungere la propria amicizia al punto di svelare in tutta franchezza la moglie il fatto sgradevole noto supposto riguardo al marito di questa ma quando una donna con i propri pensieri in libertà li impiegava d'improvviso per qualcosa di penosamente doloroso per le proprie amiche entravano in ballo vari impulsi morali che tendevano a stimolare uno sfogo il candore era uno di questi essere candida nella fraseologia di middlemarch significava ricorrere al più presto a un'occasione per far sapere alle amiche che non si aveva un'idea troppo buona delle loro capacità della loro condotta o della loro posizione e un candore energico non aspettava mai che venisse richiesta la propria opinione poi ancora c'era l'amore della verità un'espressione vaga ma che in questo caso significava una vivace avversione a vedere una moglie con un aspetto più allegro di quanto autorizzava la reputazione del marito o che si dimostrava troppo soddisfatta della propria sorte alla poveretta si doveva insinuare in qualche modo che se avesse saputo la verità sarebbe compiaciuta un po' meno del proprio cappellino e di piatti delicati per una cena più forte di tutto c'era la preoccupazione per il perfezionamento morale di un'amica a volte chiamato la sua anima che era probabile tra esse beneficio da osservazioni tendente alla tristezza pronunciate con l'accompagnamento di sguardi pensosi ai mobili e con dei modi che sottintendevano che chi parlava non aveva intenzione di dire ciò che aveva in mente per riguardo i sentimenti dell'ascoltatrice tutto sommato si potrebbe dire che un ardente spirito di carità si metteva all'opera per indurre la mente virtuosa a rendere infelice l'amica per il suo bene a middlemarch ben difficilmente si sarebbero potute trovare delle mogli le cui sfortune coniugali in modi diversi avrebbero potuto con ogni probabilità evocare questa attività morale in misura maggiore di Rosamond di sua zia Balstrow. Mrs. Balstrow non era oggetto di antipatia e non aveva mai urtato consapevolmente alcun essere umano gli uomini le avevano sempre giudicato un'avvenente donna tranquilla e avevano considerato uno dei segni dell'ipocrisia di Balstrow il fatto che avesse scelto una vigorosa vinsì invece di una persona squallida e malinconica in armonia con la sua scarsa considerazione per i piaceri terreni. Quando venne alla luce lo scandalo del marito essi osservarono a proposito di lei. Ah povera donna è pura come la luce del giorno lei non ha mai sospettato nulla di male in lui potete contarci. Le donne che erano sue amiche intime parlarono molto fra di loro della povera Harriet immaginarono quali sarebbero stati i suoi sentimenti quando sarebbe giunta a sapere tutto e si diedero a congetturare quanto fosse già arrivata a sapere. Nei suoi confronti non c'era alcun astio piuttosto un'attiva benevolenza ansiosa di verificare cosa le avrebbe fatto bene provare e fare in tali circostanze. La qualcosa naturalmente diede la fantasia unesca per immuginare sul suo carattere e la sua storia dal tempo in cui era Harriet vinsì fino al momento attuale. All'esame di Mrs. Balstrow e della sua posizione era inevitabile associare Rosamond le cui prospettive si presentavano fosche come quelle della zia. Rosamond fu criticata più aspramente e meno compassionata per quanto anch'essa in quanto appartenente alla brava antica famiglia vinsì che era conosciuta da sempre a Middelmarch fosse considerata la vittima di un matrimonio con un intrigante. I vinsì avevano le loro debolezze ma queste erano palesi non c'era mai nulla di male da scoprire su di loro. Mrs. Balstrow fu assolta da ogni rassomiglianza col marito i difetti di Harriet erano solo suoi. Ha fatto sempre la sfarzosa disse Mrs. Egbert mentre preparava il tè per un ricevimento ristretto. Anche se ha preso l'abitudine di mettere avanti la propria religione per non informarsi al marito ha tentato di alzare la cresta a Middelmarch facendo sapere che invita preti e dio sa chi da Riverstone e da quelle parti. Non possiamo biasimarla per questo disse Mrs. Prague perché poche delle persone migliori delle città hanno voluto avere a che fare con Balstrow e lei doveva avere qualcuno da far sedere alla sua tavola. Mr. Tessiger lo ha sempre sostenuto disse Mrs. Egbert penso che adesso se ne debba pentire ma in cor suo non gli è mai stato simpatico questo lo sanno tutti disse Mrs. Haller. Mr. Tessiger non si spinge mai agli estremi si attiene alla verità per le cose evangeliche. Sono soli i preti come Mr. Tyke che vogliono usare i libri degli inni e dei dissenzienti e quel genere volgare di religione ad aver sempre trovato Balstrow di loro gusto. Mi dicono che Mr. Tyke è molto addolorato per lui disse Mrs. Egbert e ne abbe motivo. Dicono che i Balstrow hanno per metà mantenuto la famiglia Tyke e naturalmente questo torna a discredito delle sue dottrine disse Mrs. Sprague che era piuttosto anziana e intratteneva idea all'antica. A Middlemarch passerà un bel po' di tempo prima che la gente torni a vantarsi di essere metodista. Io credo che non dobbiamo attribuire le cattive azioni delle persone alla loro religione disse Mrs. Plymdale col suo viso da falcone la quale fino ad allora era rimasta da ascoltare. Oh mia cara, dimenticavamo, disse Mrs. Sprague, non dovevamo parlare di questo in vostra presenza. Sono certa di non avere alcun motivo per fare delle parzialità, disse Mrs. Plymdale arrossendo. È vero che Mr. Plymdale è stato sempre in buoni rapporti con Mr. Balstrow e Airet Vincera mia amica da molto prima che lo sposasse, ma ho sempre avuto le mie opinioni e ho detto dove sbagliava, poverina. Comunque per quel che riguarda le religioni devo dire che Mr. Balstrow avrebbe potuto fare quello che ha fatto e peggio, eppure essere un uomo senza religione. Non dico che non ce ne sia stata un po' troppa, anch'io preferisco la moderazione, ma la verità è la verità. Quelli che vengono processati alla corte d'assise non sono tutti dei baciapile, suppongo. Beh, disse Mrs. Ekbert, cambiando abilmente discorso, tutto quello che posso dire è che penso che dovrebbe separarsi da lui. Non sono d'accordo, lei lo ha preso nel bene e nel male, lo sapete. Però male non potrà mai significare scoprire che il marito si meriterebbe di andare in galera, disse Mrs. Ekbert. Ve lo immaginate vivere con un uomo del genere? Io mi aspetterei di venire avvelenata. Sì, anch'io penso che sia un incoraggiamento al delitto, se uomini simili devono venire curati, accuditi da delle bravi mogli, disse Mrs. Stoller. E una brava moglie? La povera Harriet lo è stata, disse Mrs. Splendale. Giudica suo marito il migliore degli uomini. Vero è che lui non le ha mai negato niente. Bene, vedremo cosa farà lei, disse Mrs. Ekbert. Lo credo che non sappia ancora niente, poveretta. Spero e mi auguro sinceramente di non vederla, perché avrei una paura da morire, di dirle qualcosa sul marito. Pensate che non le sia arrivato ancora nessun accenno? Ne dubito, disse Mrs. Stoller. Sappiamo che lui è malato e non si è mosso di casa della riunione di giovedì. Ma ieri lei era in chiesa con le figlie e avevano dei cappellini di paglia nuovi. Nel suo portava una piuma. Non mi sono mai accorta che la sua religione le facesse cambiare abito. Porta sempre dei modelli molto eleganti, disse Mrs. Spindale, un po' punta sul vivo. E a quella piuma so che ha fatto dare un color lavanda palido perché fosse in tinta. Dieret devo dire questo, che desidera fare le cose giuste. Quanto alla conoscenza di quello che è successo, non le si potrà nascondere a lungo, disse Mrs. Ekbert. I Vinci lo sanno, perché Mr. Vinci era alla riunione. Sarà un grave colpo per lui. Oltre alla sorella, c'è dentro la figlia. Già, infatti, disse Mrs. Sprague, nessuno pensa che Mr. Elgate possa continuare a camminare a testa alta a Middlemarch. È così sinistra la storia delle mille sterline che ha preso proprio alla morte di quell'uomo. La cosa fa proprio rabbrividire. L'orgoglio deve essere punito, disse Mrs. Ekbert. Non mi dispiace tanto per Rosamond Vinci quanto per la zia, disse Mrs. Spindale. Aveva bisogno di una lezione. Suppongo che i Balstrow andranno a vivere da qualche parte all'estero, disse Mrs. Sprague. È quello che generalmente si fa quando succede qualcosa di disonorevole in una famiglia. E sarà un colpo davvero terribile per Harriet, disse Mrs. Spindale. Mai c'è stata una donna distrutta? Quella sarà lei. Ne ho compassione dal più profondo del cuore, e nonostante tutti i suoi difetti ci sono poche donne migliori di lei. Fin da bambina aveva i modi più educati, ed era sempre buona e sincera come la luce del giorno. Uno avrebbe potuto guardare nei suoi cassetti quando voleva sempre la stessa roba, e allo stesso modo ha allevato Kate e Ellen. Potete pensare come sarà duro per lei andarsene fra degli stranieri. Il dottore dice che questo è quanto raccomanderebbe di fare ai Leadgate, disse Mrs. Sprague. Dice che Leadgate avrebbe dovuto restarsene fra i francesi. Questo a lei andrebbe benissimo, credo, aggiunse Mrs. Spindale. Ha lo stesso genere di leggerezza. Ma l'ha presa dalla madre, non dalla zia Balstrow, che le ha sempre dato dei buoni consigli a quel che ne so avrebbe preferito che si fosse sposata con qualcun altro. Mrs. Plindale si trovava in una situazione che le provocava una qualche complicazione di sentimenti. C'era stata non solo la sua stretta amicizia con Mrs. Balstrow, ma anche un proficuo rapporto d'affari del grosso colorificio Plindale con Mr. Balstrow, cosa che da un lato la spingeva a desiderare che il giudizio più benevolo sulla reputazione del banchiere fosse quello veritiero, ma dall'altro le stillava ancora di più il timore di sembrare, di voler trovare attenuanti alla sua colpevolezza. Inoltre, il legame recente della sua famiglia con i Toller aveva messo in rapporto con la cerca migliore, il che la gratificava in ogni senso, tranne nella propensione per quelle concezioni severe che considerava le migliori per altri aspetti. La coscienza della donnina ad allineamenti affilati era alquanto tormentata dal tentativo di conciliare questi opposti e i dolori e le soddisfazioni date dagli ultimi avvenimenti, che molto probabilmente avrebbero umiliato coloro che dovevano venire umiliati, ma che si sarebbero anche abbattuti pesantemente sulla sua amica ad antica data, i cui difetti lei avrebbe preferito vedere contro uno sfondo di prosperità. La povera Mrs. Balstrow, frattanto, non era stata scossa dal passo sopraggiungente della calamità, se non per un'agitazione più viva di quel segreto malessere che era stato sempre presente in lei dall'ultima visita di Raffles a Deschraps. Che quell'uomo odioso fosse giunto malato a Stoncour e che il marito avesse preferito trattenersi là e vegliarlo, lei acconsentiva a spiegarlo col fatto che Raffles era stato alle sue dipendenze e lo aveva aiutato nei tempi andati e che ciò costituiva un legame di benevolenza verso di lui in quello stato di degradata impotenza. E dopo ciò si era innocentemente inallegrata per il discorso più ottimista del marito riguardo alla propria salute e alla capacità di continuare a curarsi degli affari. La calma fu turbata quando Lydgate lo portò a casa indisposto dalla riunione e a dispetto di assicurazioni confortanti nei giorni successivi, lei pianse in segreto, convinta che il marito non fosse semplicemente affetto da una malattia fisica ma da qualcosa che gli affliggeva il cuore. Non le consentiva di leggerli e ama la pena di sedere assieme a lui, adducendo una suscettibilità nervosa ai rumori e ai movimenti, eppure sospettava che chiusosi nella sua stanza e gli volesse occuparsi delle proprie carte. Qualcosa, n'era certa, era successo. Forse si trattava di una qualche grossa perdita di denaro e lei ne era tenuta all'oscuro. Non osando interrogare il marito, disse Lydgate il quinto giorno dopo la riunione, quando non aveva ancora lasciato la casa se non per andare in chiesa. «Mr. Lydgate, vi prego, siate franco con me. Voglio sapere la verità. È successo qualcosa, Mr. Balstrow?» «Una piccola scossa nervosa», rispose Lydgate con aria evasiva. Pensava che non aspettasse a lui farle la dolorosa rivelazione. «Ma che cosa l'ha causata?» chiese Mrs. Balstrow guardandoli in faccia con i suoi grandi occhi scuri. «C'è spesso qualcosa di velenoso nell'area delle sale aperte al pubblico», disse Lydgate. «Lydgate, individui forti riescono a sopportarlo, ma fa sentire il proprio influsso sulle persone in proporzione alla delicatezza del loro organismo. Spesso è impossibile spiegare il momento preciso di un attacco o meglio dire perché l'energia venga meno in un particolare momento». Mrs. Balstrow non fu soddisfatta di questa risposta. Rimase convinta che il marito fosse accaduto a qualche calamità di cui lei veniva tenuta all'oscuro ed era un tratto del suo carattere opporsi con forza a un assimile occultamento. Chiese il permesso che le figlie sedessero col padre e si recò in città in carrozza a fare alcune visite, supponendo che se si sapeva che ci fosse stato un qualche rovescio nelle faccende di Mr. Balstrow, ne avrebbe visto o udito un qualche segno. Passò da Mrs. Stesiger, la quale non era in casa, e poi si diresse da Mrs. Eckbart, all'altra estremità del cimitero. Mrs. Eckbart la vide arrivare da una finestra ai piani superiori e, a ricordo della paura manifestata in precedenza di incontrare Mrs. Balstrow, si sentì quasi obbligata per coerenza a mandare a dire di non essere in casa, ma contro questa tentazione in lei spuntò un improvviso forte desiderio di provare l'eccitazione di un colloquio in cui era assolutamente decisa a non fare la minima allusione a ciò che le passava per la mente. Quindi Mrs. Balstrow fu introdotta nel salotto e Mrs. Eckbart si diresse alla sua volta, serrando le labbra e lasciandosi le mani più di quanto la si vedesse fare di consueto, poiché si trattava di precauzioni adottate contro un parlare franco. Era decisa a non chiedere come stesse Mr. Balstrow. «Non vado da nessuna parte, tranne in chiesa, da quasi una settimana», disse Mrs. Balstrow dopo alcune osservazioni preliminari. «Ma Mr. Balstrow si è sentito tanto male alla riunione di giovedì che non me la sono sentita di uscire di casa». Mrs. Eckbart si lisciò il dorso di una mano con il palmo dell'altra tenuta contro il petto e lasciò vagare lo sguardo sul disegno del tappeto. «Mr. Eckbart, c'era la riunione?» insistette Mrs. Balstrow. «Sì, c'era», disse Mrs. Eckbart con lo stesso atteggiamento. «La terra sarà comprata con una sottoscrizione, credo». «Speriamo che non si presentino altri casi di colera da seppellirvi», disse Mrs. Balstrow. «È un castigo terribile, ma io penso sempre che Middlemarch sia un posto assai salubre. Supponga che derivi dal fatto di esserci abituata fin da bambina, ma non ho mai visto un'altra città in cui mi piacerebbe vivere più che in questa, soprattutto il nostro quartiere». «Certo, sarei felice se abitasse sempre a Middlemarch, Mrs. Balstrow», disse Mr. Eckbart con un lieve sospiro. «Eppure dobbiamo imparare a rassegnarci, qualunque sia il nostro destino, però sono sicura che in questa città ci sarà sempre della gente che vi vorrà bene». Mrs. Eckbart moriva dalla voglia di dire «Se seguite il mio consiglio, separatevi da vostro marito», ma le parve chiaro che la povera donna non sapeva nulla del fulmine pronta a caderle sul capo e lei non poteva far altro che prepararla un po'. All'improvviso, Mrs. Balstrow sentì un gelo e un tremito. Evidentemente c'era qualcosa di insolito dietro questo discorso di Mrs. Eckbart, ma sebbene fosse uscita con il desiderio di venire pienamente informata, ora si rese conto di non essere in grado di insistere nel proprio coraggioso proposito e, sviata la conversazione con una domanda sui giovani Eckbart, ben presto si congedò dicendo che andava a trovare Mrs. Plimdale. Strada facendo, cercò di immaginare che alla riunione ci fosse stato uno scontro insolitamente violento fra Mr. Balstrow e alcuni dei suoi frequenti oppositori. Forse Mr. Eckbart avrebbe potuto essere uno di essi. Il che? Avrebbe spiegato tu. Ma quando si trovò a conversare con Mrs. Plimdale, quella confortante spiegazione non parve più sostenibile. Selina l'accolse con una patetica affettuosità e una prontezza a dare risposte edificanti sugli argomenti più comuni, cosa che difficilmente poteva riferirsi a una comune lite la cui più importante conseguenza era un'alterazione della salute di Mrs. Balstrow. In precedenza, Mrs. Balstrow aveva pensato che avrebbe preferito interrogare Mrs. Plimdale più di chiunque altro, ma con stupore si rese conto che una vecchia amica non è sempre la persona con cui è più facile scambiarsi delle confidenze. C'era l'ostacolo del ricordo delle informazioni scambiate in altre circostanze, c'era la ripugnanza a venire compassionata e informata da una che da tempo era abituata a considerarla superiore. Infatti, certe parole, dalla misteriosa appropriatezza che Mrs. Plimdale si lasciò sfuggire sulla propria decisione di non volgere mai le spalle agli amici, convinsero Mrs. Balstrow che ciò che era accaduto doveva essere una sventura di qualche genere e, invece di riuscire a dire, con la sua naturale franchezza, che cosa avete in mente, si rese conto di non veder l'ora di andarsene prima di aver sentito qualcosa di più esplicito. Cominciò a nutrire una sconvolgente certezza che la sventura fosse qualcosa di più di una semplice perdita di denaro, perché aveva acutamente notato che ora Selina, proprio come Mrs. Akpat in precedenza, evitava di far caso a ciò che diceva del marito, come se avessero evitato di far caso a un difetto fisico.